Sono 267.000 gli alberi piantati da mosaico verde in 60 comuni ed enti parco. Anche Estra ha contribuito a realizzare in Toscana e Marche il programma di forestazione urbana di A0CO2. Centri a reti gas porta il metano nelle zone più periferiche di Montevarchi, accordo tra la società di distribuzione di Estra e il comune aretino per estendere la rete gas a tutto il territorio comunale. Turandotte e l'Oriente Fantastico di Puccini, Chini e Caramba è il titolo della mostra, sostenuta da Estra al Museo del Tessuto di Prato fino al 21 novembre, dei costumi della prima assoluta della celebre opera. Al via le iscrizioni per Oida Campus, la scuola estiva di musica di luglio nelle foreste casentinesi di Orchestra Instabile di Arezzo e del comune di Chiusi della Verna, sostenuta anche da Estra.